Ciao a tutti i miei, siamo tornati su una nuova puntata e speriamo, io spero che raggiungiamo 10 mi piace e vi farò vedere se vi piace un altro top un altro c'è, avete capito botto il flip ora sto facendo con questa, poi mi reggo le rose buone se c'è abbastanza acqua, se è troppo ma io di solito mi trovo con quello piccolo ma tra l'altro se lo posso e cominciamo il primo il primo, cominciamo già benissimo il secondo ogni volta che in piedi un mi piace mi piace mettetelo subito no, la magia finisce non la vedo nessuno non la state mettendo alcuni si ottimi lo dovete mettere tutti ragazzi lo dovete mettere no, la magia finisce mi chiamo la magia di tappa dovete mettere l'ingresso non è che l'acqua è troppo non è che l'acqua è troppo non è che l'acqua è troppo è bravo mettere ancora mi piace e siamo a due quasi dai arriviamo a cento mi piace e sul mio profilo scarto sportiello mangio invece a gerbi e perotti miei di donari non è che non è che non è che